Non si può dare la colpa agli altri, sempre. L'Italia non uscirà mai da questa crisi, io questo lo ripeto, forse annoia e vi invito anche voi giornalisti e responsabili dei media a spiegare questo ai italiani. Se gli italiani continueranno a pensare che i problemi vengono da fuori, non se ne uscirà perché altri paesi, nelle stesse condizioni nostre, evidentemente sono rimboccati le maniche. La Germania nel 2002-2003-2004 era la malata dell'Europa, addirittura sforò il disavanzo, l'Italia dovette aiutare la Germania consentendo alla Commissione Europea di dare un anno in più. Qual è stata la ricetta della Germania? Però in quegli anni ha fatto le riforme, si è messa lì con calma, moderazione salariale. Che riforme andrebbero fatte in Italia? Scusi, questa crisi nasce da che cosa? In Grecia. I dipendenti pubblici hanno aumentato gli stipendi del 100% in dieci anni. In Italia del 50%, 20 punti in più dei privati. Se oggi, se in questi dieci anni i dipendenti pubblici avessero avuto degli aumenti simili ai dipendenti privati, avremmo un surplus di bilancio oggi. Allora, il problema di chi è? Di mercati finanziari o forse gli aumenti dei comportamenti in passato forse non perfettamente in linea con quello che una sana gestione dell'economia richiede?